Degustare i migliori vini pugliesi coccolati dai vicoli del Borgo Antico di Biceglie nel nord barese, assaporare le note che le produzioni enologiche regionali donano ed esaltarle con le ricette della tradizione culinaria locale. Una a tre giorni dedicate alle eccellenze pugliesi, ma anche alla bellezza di un centro storico cantuccio di dimore e musei che raccontano il passato della città. Calici nel Borgo Antico, la manifestazione organizzata dall'Associazione Borgo Antico e patrocinata da Comune di Biceglie, assessorato all'agricoltura della Regione Puglia e Camera di Commercio di Bari, ha richiamato tanti visitatori, incuriositi non solo da quanto offerto dall'enogastronomia, ma anche da esibizioni artistiche e musicali che hanno accompagnato la prima delle tre serate dedicate alle migliori produzioni enogastronomiche regionali. Ospitiamo nel centro storico 30 cantine, eccellenze dei vini pugliesi, artisti di strada che riempiranno le piazze del nostro centro storico, il tutto anche con dello street food messo a disposizione dai ristoratori sempre del centro storico. Calici nel Borgo Antico rappresenta un'occasione per consentire alla stagione turistica di proseguire oltre i mesi estivi per la città. Ormai Calici nel Borgo Antico è diventata una manifestazione tradizionale di questo periodo dell'anno qui a Biceglie, ci consente non soltanto di destagionalizzare l'offerta turistica, infatti in questi giorni ci sono ancora tantissimi turisti, soprattutto stranieri qui in città, ma anche e soprattutto ci consente di mostrare loro i più bei cortili dei nostri palazzi ottocenteschi, le stradine e i vigoli del centro storico che si fanno belli e si mettono in mostra offrendo ovviamente anche del buon vino. E quindi questa idea anche della valorizzazione delle nostre eccellenze no gastronomiche che si sposa benissimo con la storia del nostro Borgo Antico.